Buongiorno, siamo qui nei locali della Guardia Costiera di Giulianova, precisamente nell'ufficio del comandante, il tenente di Vascello, Daniela Sutera, che ormai si è quasi ambientata a Giulianova, per non dire definitivamente ambientata, perché sono ormai nove mesi che è qui al comando della Guardia Costiera. Allora, tenente, qua il discorso è che come responsabile della Guardia Costiera, a parte tutto il litorale della costa di Aramana, ma hai anche il comando sul territorio interno, perché insomma le vostre attività sono molteplici, non è soltanto in acqua, ma un po' anche i corsi d'acqua, andate a vedere, a monitorare e quant'altro. Com'è questo lavoro, genericamente parlando? Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per questo incontro. Abbiamo aspettato appunto di avere le norme anti-Covid a favore, quindi ci stiamo rivedendo. È stato un periodo molto intenso questo trascorso qui al comando di Giulianova, effettivamente i 60 chilometri di costa, i 7 comuni costieri e la parte tutta interna, che praticamente quasi comprende tutta la provincia di Aramana, diciamo che danno un bel da fare. Dal punto di vista ambientale abbiamo seguito diverse operazioni a livello nazionale e regionali, coordinate da Pescara e in ambito locale abbiamo fatto una serie di attività di controllo e tuttora, proprio oggi i miei uomini sono nel comune di Roseto a fare delle verifiche. abbiamo riscontrato delle anomalie sia per quanto riguarda scarichi domestici, sono in corso di accertamento quindi dei condomini che sembrerebbe scaricassero nel canale delle acque bianche e non quindi in pubblica fognatura, classico purtroppo, ma adesso riaprendo i canali delle acque bianche nella fase ovviamente di preparazione anche all'estate, emergono queste irregolarità ancora più di prima e poi abbiamo riscontrato e quindi fatto delle attività anche su delle industrie, nell'interno del Terramano, quindi nel comune di Corropoli, di Campli e anche lì abbiamo trovato delle gravi irregolarità, quindi lì si va a finire comunque nel penale perché parliamo di scarichi industriali ancora più pericolosi per l'ambiente che venivano anche in quel caso illecitamente smaltiti nei canali piuttosto che secondo le modalità previste. Allora, da un paio di giorni mi sembra sia ricominciata l'attività per l'evongolare che a Giulianova ha una flotta abbastanza consistente, mi pare che sia la più grande in Abruzzo perché oltre 60 a Giulianova il Coggevo ce n'ha in tutto 82 per cui tra Pescara, Roseto e Giulianova, ma la parte appunto predominante è qui al porto di Giulianova, quindi comincia dopo un 45 giorni di… anche perché voi fate spesso controlli a bordo di queste imbarcazioni proprio per controllare sia l'attività di pesca ma anche se esistono eventuali… insomma ci siamo capiti. Sì, d'altronde avete seguito l'ecrona che effettivamente spesso capita purtroppo di trovare, diciamo così, irregolarità, chiamiamole irregolarità, non ovviamente sempre e non su tutte le unità, devo dire comunque effettivamente c'è il Coggevo che segue molto l'attività dei suoi pescherecci però ovviamente bisogna sempre stare attenti e controllare ma ovviamente non soltanto con l'Evongolare, in generale su tutte le unità, l'Evongolare sicuramente sono la parte principale nel porto di Giulianova e proprio questa mattina siamo andati comunque a fare delle verifiche per quanto riguarda la distanza dalla costa, il rispetto dei quantitativi, la scorsa settimana abbiamo verificato il mercato ittico, quindi comunque ci impegna tanto il controllo della filiera della pesca, adesso riprenderemo anche a controllare le pescherie e i ristoranti ovviamente con la giusta comprensione comunque del momento che è molto particolare, quindi di riapertura, di ripartenza, quindi comunque sempre in maniera intelligente faremo sicuramente dei controlli in più in previsione dell'estate. C'è una persona, più che altro una bambina di nome Chiara che non è stata ancora arruolata nella quartiera costiera, però pare che si sia ambientata bene a Giulianova, vero? Sì sì sì, mia figlia, devo dire che lei adora Giulianova, infatti per quello dicevo sicuramente ha portata di bambini perché non si riesce a fare una passeggiata di 20 vetri senza trovare qualche parco gioco, qualche struttura accogliente proprio per i più piccoli, quindi devo dire che rispetto alle zone dove eravamo in passato si trova molto bene sia con le istituzioni quindi comunque scolastiche, quindi sia per la parte scuola che la parte comunque città e quindi lei è un'amante di Giulianova e penso che rimarrà un bel ricordo di questo periodo nei prossimi anni pieno che sicuramente trascorreremo qua. Già hai deciso di andare via? Attualmente non sono previste in uscita, quindi comunque il comandante rimane, però sicuramente abbiamo dei periodi di comando che vanno tra i due e tre anni, quindi comunque purtroppo ahimè dobbiamo girare e dare il nostro contributo anche in altre parti d'Italia, soprattutto dopo il periodo di comando, però ancora è lontano e ancora devo fare tanto qui, quindi non vado via. Sì perché pare che gli ufficiali ne siano tanti, però i posti di comando non ne siano molti, ecco perché c'è questa rotazione veloce, diciamo, è vero? Assolutamente, noi è in Marina perché comunque rispettiamo le tempistiche della Marina Militare, essendo comunque il Corpo delle Capitanerie Porto un corpo della Marina Militare Italiana, abbiamo degli obblighi giuridici da assolvere che prevedono appunto come minimo un anno di comando, quindi i miei compagni di corso dello Stato Maggiore lo fanno sulle navi, piuttosto che i piloti o sui vedivoli, sui pattugliatori più grandi, noi delle Capitanerie lo facciamo a terra nei comandi di Circomare. Per una serie di questioni che non sto a spiegare, c'è stata una revisione delle carriere e quindi effettivamente in questo periodo siamo molti capitani, quindi Tenenti di Vascello che poi sarebbe il grado capitano per l'esercito, che devono assolvere questi incarichi e quindi comunque si tratta appunto di un paio d'anni di media, di comando rispetto magari in passato quando forse era leggermente più lungo il periodo. La scuola quando frequentavi il liceo, il liceo eri una secchione? Questa è la domanda a tradimento, perché nell'accezione positiva del termine sì, diciamo che mi piaceva molto studiare, ho sempre studiato con piacere e anche questo è un appello che faccio ai ragazzi perché veramente io penso che sapere sia un'arma che solo noi possiamo coltivare, è un'arma formidabile nel nostro vivere quotidiano, perché essere informati e conoscere è la cosa più bella che si può fare, quindi l'ignoranza a volte non permette di comprendere determinati aspetti e quindi secondo me studiare è veramente, se magari nel momento in cui si studia non si comprende, a lungo andare poi si hanno i profitti dello studio e devo dire che mi piaceva molto, sono sempre andata abbastanza bene, sono stata fortunata, ho avuto anche dei bravissimi insegnanti che mi hanno sempre coinvolto anche nelle materie che magari non amavo particolarmente, perché come tutti avevo le mie preferenze e ho sempre prediletto la matematica, le materie scientifiche, nonostante poi comunque la mia laurea è praticamente una laurea giuridica, però ho avuto dei buoni insegnanti che mi hanno dato un metodo e questo li ringrazio e sono contenta insomma di averli seguiti. Per tracciare una rotta, un po' di matematica occorre no? Assolutamente sì, infatti mi sono trovata molto bene con la navigazione perché anche in questo dico che non necessariamente serve avere fatto degli studi tecnico-nautici comunque per fare questo tipo di carriera, basta avere veramente un buon metodo e quello che le insegna sicuramente sia un approccio scientifico, mi è stato utile in tutto quello che faccio giornalmente. Va bene, allora tra pochi giorni, almeno da quello che si legge, dai provvedimenti anche della regione, se non sbaglio il 15 maggio si apre la stagione palneare ufficialmente, ecco come vi state preparando voi? Allora sì, in questo periodo veramente importante e delicato perché come dicevo c'è una ripresa lenta ma si vede che c'è proprio voglia di riprendere. Giulia Nova e tutto il circondario ha un numero di concessioni elevato e quindi gestire tutto insieme ai comuni, anche con la questione del fratino di cui parlavo, quindi gli aspetti ambientali che si stanno presentando in questo periodo è molto complesso, bisogna commisurare, io penso sempre che il dialogo e cercare di commisurare i vari interessi in campo sia la cosa migliore, almeno il miglior tentativo da fare, quindi noi guardia costera ci mettiamo ovviamente a disposizione per qualsiasi dubbio o perplessità nella fase di riapertura, andremo a verificare ovviamente che vengano rispettate le norme, soprattutto riguardo alla sicurezza dei bagnanti, quindi a breve emanerò l'ordinanza di sicurezza balneare che stiamo concordando con ovviamente la direzione marittima per avere comunque un'ordinanza simile almeno come intenti su tutta la direzione marittima e su tutto l'Abruzzo e ovviamente verrà tagliata la realtà del circondario e dove verranno date le disposizioni riguardo al servizio assistenza e salvataggio, riapertura a fini leoterapici e quant'altro, quindi comunque ci accingiamo questa nuova riapertura, le disposizioni Covid ovviamente le darà la Regione e il Comune in base a quello che accadrà nei prossimi mesi, però al momento sembra che si dovrebbe ripartire, quindi in questi giorni le spiagge sono in fermento per riaprire tutte le varie concessioni, i vari stabilimenti, quindi noi siamo a disposizione per qualsiasi necessità perché anche lì ritengo che sia meglio un'attività preventiva, quindi di chiarificatrice eventualmente di dubbi a monte piuttosto che poi farla a posteriori in fase di finale di apertura, quindi adesso sicuramente faremo delle attività di controllo sugli stabilimenti e non solo, anche sulle parti in concessione per vedere se è tutto in regola e si può ripartire. Sono previsti anche degli incontri a livello sindacale, nel senso i rappresentanti del mondo della balneazione oppure no, andate avanti con l'ordinanza? Allora io sempre per un discorso di apertura ovviamente ho ricevuto le varie istanze che mi hanno fatto pervenire associazioni, per esempio anche sindacati che si occupano proprio dell'aspetto lavorativo, di assistenti bagnanti, ho cercato per quanto possibile di inserirli nell'ordinanza di quest'anno, anche se effettivamente è un po' magari tardivo, quindi su certi aspetti ci dovremo lavorare per il prossimo anno per riuscire a modificare qualcosina che possa andare a favore delle richieste che mi hanno fatto, però ovviamente una cosa è certa, sulla sicurezza non facciamo sconti e quindi sicuramente non ci sarà nessun provvedimento, o meglio il nuovo provvedimento non andrà a inficiare gli aspetti relativi alla sicurezza, quindi di chi sta in mare, quindi sicuramente come orari e come fasce di rispetto, comunque non ci saranno deroghe in questo senso, quindi comunque sulla sicurezza rimarremo più o meno sulle prescrizioni che sono state fatte negli anni passati. Quindi ho tenuto conto di questi piccoli vuoti da riempire, un motivo in più per rimanere maggior tempo a Giulia Nova. Assolutamente, ma infatti è importante avere una continuità, è vero che la squadra comunque rimane sebbene cambi il comandante, però è effettivamente un periodo minimo per portare a termine delle innovazioni o comunque delle modifiche ci vuole, comunque ci stiamo lavorando e sicuramente porteremo a termine quello che è già stato iniziato in passato, cosa di nuovo stiamo facendo quest'anno. Allora, qui finisce l'incontro con il tenente di Vascello, Daniela Sutera, che noi ringraziamo perché è una persona squisita, sempre gentile con noi e Radio Azzurra e i suoi ascoltatori ringraziano la disponibilità dell'ufficiale e noi gli auguriamo di ristare il più possibile a Giulia Nova, perché oltretutto ci fa piacere, quindi un appuntamento a una prossima intervista. Grazie. Grazie a voi e alla prossima. Grazie a voi.